bene oggi voglio parlarvi della differenza che c'è tra perdono e compassione sembrano due parole molto vicine ma in realtà non è così non è così perché il perdono è qualcosa che ci appartiene dal punto di vista proprio di quello che è successo nella nostra vita quindi il perdonare è legato a qualcosa di spiacevole che ci è accaduto un dolore anche un dolore importante delle persone che sono comportate male con noi o che noi riteniamo si siano comportate male delusioni frustrazioni tutto quello che attiene alla vita quotidiana di disagio e di dispiacere quando siamo in quella situazione io incoraggio sempre le persone a perdonare perché il perdono fa bene a noi fa bene alla nostra anima quindi non è che quando perdoniamo siamo buoni particolarmente perché quello che si pensa è ti perdono e quindi sono nella mia fase della bontà ma in realtà il perdono ci consente di lasciare andare di far correre via quello che non ci serve più per cui quando noi perdoniamo in realtà ci sentiamo in pace con noi stessi poi la persona che si è comportata male si prenderà le proprie responsabilità ma tutto sommato se entriamo in quell'ottica è qualcosa che non ci riguarda la compassione invece è un livello più alto di empatia nei confronti di persone che ha un giudizio umano veramente non si meritano niente la compassione è importante che scatti quando sentiamo delle brutalità quando sentiamo parlare di omicidi quando sentiamo parlare di persone che maltrattano i bambini lì entra un livello spirituale diverso nel senso che fermo restando il lavoro della giustizia non solo degli uomini ma anche la giustizia divina che non spetta a noi e che tutto sommato non ci riguarda però quando noi mandiamo questo senso di compassione mandiamo luce alle persone che davvero hanno fatto il peggio ecco che mettiamo in condizione questa anima magari di sentirsi più in connessione con l'universo e capire dove hanno sbagliato vorrei che fosse chiaro che questo discorso la compassione che so benissimo che non è facile da accettare non è un discorso di accettazione per quello che le persone fanno di peggio è semplicemente un modo diverso di mandare luce e di accettazione nei confronti di un'anima che ha a questo punto un karma pesantissimo da sciogliere per oggi ho finito so che questo discorso è complicato probabilmente non vi sarà piaciuto neanche tanto vi ricordo di iscrivermi se volete condividere con me vi ricordo di iscrivervi al mio canale se volete di mettere un like e ci vediamo domenica prossima con un altro argomento sempre delle mie riflessioni my life su rabbi grazie a tutti grazie a tutti